Per noi venire a fare questo campionato era uno step aggiuntivo. Siamo conosciuti e Dario in un circuito in Abruzzo, a Ortona, avevamo un corso di guida. Da lì avevamo le nostre moto di andare in pista e lui era già propenso ad andarci. Mi ha invitato un giorno e da lì praticamente siamo andati sempre insieme in pista. Fino a quando, due anni fa, già si cominciava a sentire il discorso di un trofeo e gli ho detto «Dà, fai con me la gara, facciamo il campionato». E lui mi ha risposto «Proviamo». Fondamentalmente il legame che ci ha portato a questa cosa si è creato, si è sviluppato venendo a girare in pista nelle giornate amatoriali. Il fatto di trovarsi, caricare insieme, abbiamo preso il garage insieme. Poi ritrovarsi qui è comunque come stare in famiglia. Ci si dà una mano anche con gli altri ragazzi. Tutti sono disponibili. Il fatto di fare il campionato insieme comunque ci ha portato a allenarci insieme, andare con la moto insieme, di più, farsi più domande. Il rapporto si è concretizzato sempre di più. Io so che ci posso contare. Il rapporto con Luca comunque si è rafforzato, rinsaldato, anche grazie a questo campionato. Ci ha fatto anche litigare qualche volta, però le discussioni ci stanno. Anche questo è stato rafforzare la nostra amicizia, anche lo smontare la moto. Nelle piccole cose abbiamo dovuto rimontare i fanali, le gomme, abbiamo fatto tanti passaggi. Sentiamo tantissimo la gara, l'adrenalina prima, l'adrenalina prima di correre al lancio della bandiera e ogni volta è un caricarsi a vigenda. Mi raccomando a tutti! La giornata normale che andavi in circuito a fare dei giri, li ho chiamati così, invece di venire qui in circuito e fare insieme ad un altro la qualifica, poi la gara, era quello che io cercavo.